Il prossimo 26 settembre, intorno alle 12, l'Abruzzo sarà interessato da un test di It Alert, un nuovo sistema di allertamento per l'informazione diretta alla popolazione. Un sistema di cui si sta dotando la protezione civile nazionale, una sperimentazione per ora, ma molto importante quando entrerà in vigore perché può salvare, in caso di emergenza, vite umane. Ed è il più grande esperimento di prevenzione delle catastrofi mai messo in atto. Il test è semplice ma significativo e tutto passerà per sms a spiegare come funziona il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile Mauro Casinghini che ha spiegato i particolari dell'iniziativa assieme al presidente della regione Marco Marsilio. Il Dipartimento nazionale appunto invierà questo impulso per cui tutti i nostri cellulari nell'ambito di tutta la regione verranno interessati da questo tipo di test. Automaticamente verrà prodotto un segnale particolare, un segnale uditivo, un suono che non è quello a cui noi siamo abituati delle nostre suonerie diciamo, verrà chiesto di dare un ok al messaggio perché è bene che noi prendiamo consapevolezza del messaggio che è arrivato, quindi dobbiamo dire sì l'abbiamo letto e automaticamente ripristinerà tutte le funzioni del cellulare che nel frattempo verranno interrotte. Sicuramente ci saranno dei sistemi automatici che definiranno quali sono le aree interessate all'emergenza. Faccio un esempio, se dovesse esserci un allarme tsunami per un evento sismico generato nell'est dell'Europa, automaticamente non verranno certo interessate le aree interne ma solo quelle costiere. Parallelamente si andrà a compilare un questionario. Nelle altre regioni la procedura ha dato risultati importanti perché il 97% delle persone ha detto di aver trovato il messaggio chiaro ma c'è anche una fetta di popolazione che ha pensato ad un virus. Ci saranno diverse tipologie di eventi, maremoto, terremoto, fenomeni improvvisi, violenti e altri. Il sistema è tecnologicamente molto avanzato e prevede altre implementazioni. Da febbraio l'Italia dovrebbe portarlo al regime. La protezione civile sta lavorando in concerto anche con Anciabruzzo, comuni, scuole, ente dei sordomuti, con le associazioni di volontariato per diffondere le attività. Il 26 di settembre ci saranno anche operatori di protezione civile in alcune piazze d'Abruzzo per essere di supporto alla popolazione. Il presidente Marsilio spiega che questo sistema non comporterà nessuna violazione di privacy. Non c'è nessun rischio di violazione della privacy o di cattura di dati sensibili, questo lo voglio dire per rassicurare perché su questo tema c'è una sensibilità a volte persino paranoica e quindi è corretto ed è giusto ricordare a tutti che se sono diversi anni che si sta studiando e lavorando a questo sistema, che la Garante per la protezione dei dati ha dato il suo parere favorevole con tutte le certificazioni del caso.